Dov'è? Tu sei un tecnico del suono? Mi sa di sì che c'è Chi c'è? Ci sto io Come ti chiami? Viola Alice Davide Valerio Papa Francesco, lei mi hai sentito nominare? Il prate più importante di Roma Come immaginate, la casa di Papa Francesco? Praticamente vive in una chiesa Antica È un palazzo brillante Con un grande divano, una grande divino Questa casa è anche bella grossa Bella grossa? Sì, perché è importante allora Lo sai che il Papa abita in un appartementino di 50 metri quadri, piccolo piccolo? Sicuramente Perché il vino buono sta nelle botti piccole In questi giorni c'è stata un'inchiesta sui corvi del Vaticano Sì, su? I corvi? I corvi, no Chi saranno i corvi? Sono un tipo di uccello A volte ripicchiano anche la testa Che cosa hai sentito? Chi ha rubato i documenti del Papa Ho sentito che Papa Francesco voleva scoprire a chi andavano tutti quei soldi che erano sprecati dal quidinale E a chi andavano? Non si è ancora scoperto Lo sapete che a Roma non c'è più il sindaco? No, non è stato il sindaco Ho sentito che Marino è stato dimesso Le è dispiaciuto? Non mi è mai piaciuto Bisognerà trovare un nuovo sindaco per Roma Chi vedresti bene tu? Un mio compagno di scuola che si chiama Alessandro E quanti anni ha? Otto anni e mezzo Mamma, che brava papà Brava? Brava a fare cosa? A lavorare E anche a tirare A lavorare A lavorare A offerata A lavorare